benvenuti in questo nuovo video di stumble gas stavolta con la mod della galassia una mod fighissima come la scorsa tech sul pack fighissima come la scorsa ci sono delle immagini dita fuori e non abbiamo le mod ed è la versione 0.39 però è figa molto figa tanto comunque facciamo una partita e poi però che ammettiamo cambiamo si mettiamo questa perché è bellissima non facciamo gioco andiamo in partita ci vuole sempre tanto qui aspettiamo qui però non si vedono le mappe da fuori mi sa che ne manco da dentro credo e no da dentro si vedono con tutto la galassia intorno le cose mod molto figa consigliatissima tech sul pack dico e farò il tutorial ovviamente come sempre qui è un trick sì 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 questo è un trick però guardate le motte tipo gf che significa gf se lo sapete scrivetelo nei commenti e molti che non hanno senso e poi guardate che trick questo fare qua no non ho fatto bene ok no 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 guardate no mannaggia chi so io ma hanno spinto con gli infamy vitica chlor vabbè dai no 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 ce la devo fare ce la devo fare vuole che continui vabbè dai andiamo vai prova la faccina felice aspetto che si qualificano tutti ok si sono qualificati c'è un cane fuori che rompe sempre un po le scatoline capito ok si sta zitto vi ascoltato un po il cane ascolta molto ok sempre la stessa immagine fuori vabbè comunque è figa le skin sono figa le skin si le skin non si può dire assolutamente niente vabbè io sono un abbo come una cacca le cacce sono un abbo sono passato no 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 vai qua sopra qua sopra qua sopra guardate che non so se farò un video in cui farò imparare le trick però mi sa digno perchè voi io sono scarso deve essere molto più forte per farlo poi sera guardate che... guardate che... guardate che twicc... guardate che twiccate... vabbè... aspetto che si qualificano tutti questo... ciao... ciao dopo... no... no... ok... no perché si è messo questo... vabbè se ne facciamo che ho fatto cose sceme... si sono qualificati tutti... dai super slide... super slide... voglio vedere... super slide secondo me verrà a cambiare... Brock Dash... cambia Brock Dash... che figliosa... spero che cambiano anche i blocchi... dai vediamo... i blocchi sono sempre delle stesse volte... che vittuva di scatolina... ma non sai che vinciamo noi perché sono boss... pericolare... 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 che... che non sono così tanto forte vabbè comunque continuiamo come tipo la M dell'alfabeto tipo Nutella, Biscuit e chi chiamo con i biglietti ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ciao a tutti